Problemi matematici e scacchistici Ho letto che Lully Po, acronimo dal francese Auvoir de Lettérature Potentielle, Officina di letteratura potenziale, è il gruppo che ricerca nuove tecniche basate su problemi matematici e scacchistici che possono essere usati dagli scrittori nella maniera che preferiscono, come quello delle permutazioni e del giro del cavallo. Che cos'è in effetti Lully Po? Commento. È uno degli innumerevoli giochi della mente che non riuscendo a raccontare la coscienza, racconta illusoriamente se stessa.